Ecco qua Steffi Graff che ha metto le gomme, si sta allacciando le scarpe e siamo su una superficie sintetica e quindi la calzatura deve essere molto ben avventa al terreno. In generale i giocatori e le giocatrici utilizzano due paia di calze perché eventuali sfregamenti tra la calzatura e il piede invece avvengano tra gli strati di tessuto che sono sovrapposti dietro a Steffi abbiamo visto seduta Pam Schreier, un compagno di doppio di Martina Navratilova, grandissima doppista, vicino a lei Liz Gorgian che è stata descritta per lì, non c'è per l'altezza del rider. Dunque tre giocatori per Steffi Graff che in maniera di un break ha avuto anche la possibilità di togliere una seconda volta il servizio alla Zvereva la quale è riuscita a rimediare. 15-0 apre il campo con il servizio Steffi e mette a segno il diritto. 30-0 si ferma sul nastro la risposta della Geneva. ancora una buona prima palla di servizio di Steffi, 40-0 molto ferma la Zvereva fa proprio fatica a spostarsi alla velocità richiesta dai colpi alla Graff. e non c'è niente da fare il diritto di Steffi viaggia proprio a un'alga velocità. tiene servizio a zero la tedesca, 4 giochi a 2 per lei, francamente non vediamo cosa potrebbe fare la Zvereva per stare più attaccata alla Graff, intanto qui ci sono le vincitrici delle edizioni del Mastro dal 90 al 94, Seles 90-91-92, Graff del 93 e la Sabatini l'anno scorso. Proprio Monica Seles è la grande assente e in questo torneo ha dovuto rinunciare per i problemi al ginocchio, però Monica Seles è stata convocata nella squadra di Federation Cup che la prossima settimana giocherà a Valencia con la Spagna, Federation Cup, Stati Uniti e Spagna, anzi Spagna e Stati Uniti. 15-0 con Zvereva al servizio. Avete visto Abitino con Spacco per la Bielorossa. Bella seconda palla della Zvereva, ti mette a segno un ace, 3-0. Il primo ace della Zvereva, Steffi ne ha messo a segno 2. E fuori, lunga la seconda palla di servizio della Zvereva, doppio fallo. è stata 15-15. Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? Esce di un soffio il diritto della Graf Quarta a quindici è stata brava la Svereva a mantenere il controllo del gioco Una giocatrice che tendenzialmente ama giocare dentro il campo Non è un caso che sia una buona doppista Ama comandare il gioco Ecco, se mai la parte peggiore della Svereva si vede quando è costretta a rincorre Viene in servizio la Bielorussa Ma Stefi Graf a condurre per quattro giochi a tre Sarà lei a servirlo con il cambio di campo Prima semifinale del Master Femminile Che si svolge al Madison Square Garden di New York Master Femminile si svolgono in contemporanea Il maschile a Francoforte, il femminile a New York Telepiù si è assicurata i diritti per entrambe le manifestazioni A Francoforte la finale si è materializzata nelle persone Nella sfida tra Michael Chang e Boris Beck Qui a New York dalle due semifinali devono scaturire Le giocatrici che si contreranno il titolo E il premio di 500.000 dollari Che spera la vincitrice del Master Vediamo finale all'ora 19.00 italiana di domani Al meglio delle cinque partite Sempre al meglio delle cinque partite La finale del maschile A partire dalle ore 14.00 In diretta da Francoforte E sono state riportate alcune affermazioni della Zvereva Che appossava molti dei... Eccolo qua, vediamo un po' Sta parlando Dei vantaggi che le porterebbe il proprio sponsor Beh, insomma, penso sia stata incoraggiata A fare queste affermazioni dallo sponsor Stesso sponsor di Steffi Graff Dunque, facciamo un ricapitolazione Perché abbiamo parlato un po' di tante cose Siamo 4-3 nel primo set 15-0 Steffi Graff Servizi Adesso 30-0 Assiglio quel dritto Steffi 40-0 Sono dieci punti consecutivi Di Steffi al servizio Non ha fortuna Questa volta la Graff E' riuscita a recuperare bene Con un colpo polso La risposta aggressiva Della Zvereva Guardate poi come prova nell'aria Il movimento del servizio Steffi Per provare Mi pare Una rotazione chic C'è una parabola più alta Con un taglio Verso l'alto 40-15 Noi casi Seconda palla per la tedesca Niente da fare Non ce la fa La Zvereva Contra la maggiapotenza Dell'iritto della Graff 5 giochi a 3 Per la tedesca Che si è comunque garantita Anche se dovesse andare male Questo gioco Di poter servire Per il primo set Molto bene La Zvereva Smesha con molta facilità Buona coordinazione Dei colpi sopra la testa Denota La Bielorussa 15-0 E 30-0 40-0 E' vera sciabolata Questo attacco di rovescio Di Steffi Che prova Sul 40-0 Per l'avversaria 40-15 Non è tanto convinta La Graff Su questo primo servizio Della Zvereva Comunque Viene candidato L'Ace Alla Bielorussa Secondo Ace per lei Viene dunque Il servizio La Zvereva Ma è Steffi Graff a condurre Per 5-4 E sarà lei A servire Dopo il cambio di campo Steffi Graff Durante il cambio di campo Il vantaggio Per 5-4 Dunque Servirà per il primo set Appena si riprenderà Il gioco Ha avuto anche La possibilità La Graff Di andare in vantaggio Di due break Sono spesso Sono spesso importanti I primissimi punti Perché quando Se si dovesse andare sotto Dal 15-15-30 Allora si serve Con un pochino Un pochino Di apprezzione E si corrono Quindi più rischi È un po' corta Questa risposta Della Zvereva Infatti subito La Graff Ne approfitta 15-0 Un po' centrato Il dritto Della Zvereva Che cerca Queste solvigioni Queste palle corte Probabilmente L'ora che abbiamo sentito È una corda Ha rotto la corda E quindi ha cercato Perlomeno Sono rotto la corda Ha rotto il foot E' peggio No mi pare Ha rotto la corda E quindi ha provato Soluzione del limite Insomma Noi abbiamo sentito In cuffia Un rumore strano Io ho intentato Una cosa come una palla Centrata Per se anche Che successe su due cose A volte Si scende E rompe la corda Ebbene Non c'è dubbio Che ci sono i colpi lassati E vedete Proprio si vede Chiaramente Tra l'altro Con queste racchette Widebody Alla spalla un po' più larga Questa racchetta Non è che si rompe Una corda sola Succede un disastro Quando si colpisce In modo disassato Questa è una bella risposta E poi invece L'attacco Che era molto Tattica E mal giocato Perché fa scelto Troppo la palla D'Azereva E gioca quindi Una play Da basso in alto Quando inizia Non dico Puglio schiacciarlo Ma insomma Avrei potuto anticiparlo 40-0 3 set point Per Steffi Graff E va Anche su Per lei Ma Che è un po' bella Dice D'Azereva Non è riuscita Praticamente A indovinare Una buona risposta In tutti i game Salvo quel punto Che si è mal giocata A Redis S4 Steffi Graff C'è un po' di ci puntiamo E gli occhi di servito Della Graff Se non forse L'abbia Completamente Volpare Questa vuole smorzata Comunque Vediamo No forse No no L'ha toccata L'ha toccata L'ha voluta Fare così L'ha voluta Sborsata Efficace Vedete La differente Rapidità Delle due Sì La Graff Potrebbe giocare Un torneo Maschile Sul piano Della prestazione Fisica Invece Però avete visto La certezza Della Fisica Quando Stava spostando Verso il centro Non ce l'ha proprio Più fatta Riprendere il contropiede Guardate È proprio E da quella Presione Avrebbe dovuto Giocare Un colpo Definitivo Conoscendo Quelli che sono Quelli che Giocare Soprattutto Quella Che è Quella Che è La sua Minore Velocità Nel confronto Della Graff Non può Permettere Di giocare Colpi Quasi Da ferma Grazie A I successi In doppio Ha guadagnato Ciro Vicino I 5 Milioni Di Doll Forse Non ha Tanto Tanto Voglia Di Allenarsi Prepararsi Meglio Sul tuo profilo Atletico Fisico Ma sta bene Anche così Quando La via Ballare In steca 5 milioni Di dollari Non si compra A kenisberg Lei ha avuto Un momento Difficile Perché Proprio Quando Era Ragattina Ancora Non c'era Perestroica E Il Mi Volevano Dare Quello Che Guadagnava Quindi La graffa Arriva Anche lei Un attimo E ritardo Una palla Quasi Impossibile Da raggiungere E Quindi C'è L'1-0 Per Natalia Treva Nel secondo Sette La graffa Per primo 6-4 Nel secondo Sette M